Ciao a tutti amici di AWR Magazine, ben ritrovati a una nuova video recensione. Oggi andiamo a parlare del gioco Dungeon Hunter 3, un gioco in cui dovremo andare, per chi ovviamente lo conosce, dovremo andare a combattere, abbiamo vari combattimenti con 4 livelli di difficoltà in cui potremo andare a combattere in 16 diverse arene. Ognuna arena può essere affrontata ovviamente scegliendo una difficoltà e alla prima apertura del gioco dovremo selezionare il nostro personaggio configurandolo con ovviamente il nostro nome e potremo scegliere fra 4 possibili personaggi oltre che alla versione maschile o femminile dello stesso personaggio abbiamo a disposizione il guerriero, sciamano, astromante oppure furfante. Io ho scelto il guerriero come potete vedere, parliamo un attimo velocemente di questo che sarebbe il menu principale con la schermata di riepilogo del nostro personaggio con l'esperienza, i soldi che abbiamo a disposizione e anche le geme preziose ed è una sorta di menu per ricapitolare il tutto. Andiamo su inizia una nuova partita, qui abbiamo vari mondi in cui dovremo combattere, abbiamo 4 mondi come potete ben vedere ovviamente abbiamo la possibilità di sbloccarli quando arriveremo al livello richiesto per sbloccarlo e qui abbiamo le varie battaglie che possiamo andare a combattere. Io ho combattuto la prima battaglia come potete vedere vi vado subito a far vedere, qui abbiamo delle missioni da portare a termine con anche i parziali in cui siamo arrivati, ricompensa di monete e anche di esperienza. Attendiamo qualche secondo per il caricamento dello scenario di gioco, intanto vado a dirvi che il reparto grafico è molto curato, adesso lo vedrete fra qualche istante, come potete vedere abbiamo dei comandi che sono semplici abbiamo qui un pad per muoverci all'interno della mia di gioco, pulsante per combattere e abbiamo anche a disposizione delle mosse speciali che ovviamente cambiano da personaggio a personaggio che sono poste qui ai lati della schermata. Ovviamente queste mosse speciali faranno più danni agli avversari, quando uccideremo un avversario riceveremo oro che poi andremo a utilizzare nel negozio, riceveremo anche esperienza. Qui abbiamo delle ondate da sconfiggere di nemici, abbiamo ovviamente l'indicatore della barra dei nemici abbiamo anche l'indicatore ovviamente della nostra vita in alto a sinistra con sotto anche l'indicatore per quante mosse speciali possiamo ancora effettuare a fianco l'oro che abbiamo raccolto, le gemme preziose che abbiamo a disposizione abbiamo anche l'esperienza con indicato vicino il livello attuale, l'esperienza che abbiamo accumulato e infine abbiamo le chiavi che ci permettono di aprire dei forzieri che possiamo trovare alla fine di questi combattimenti. Sopra alle mosse speciali abbiamo la possibilità di utilizzare delle pozioni qualora avessimo una vita scarsa, comunque se noi non veniamo attaccati per un tot di tempo la vita si ricaricherà automaticamente. I nemici diventeranno via via più forti, avranno ovviamente i livelli più alti e ovviamente per andare a combattere contro nemici più forti di noi dovremo andare a potenziare il nostro personaggio comprando o anche potenziando gli oggetti nel negozio che vi farò vedere dopo questa partita. Come potete vedere abbiamo varie ondate, ovviamente le ondate cambiano dalla battaglia in cui stiamo combattendo, abbiamo anche un tempo che ci rimane per portare a termine questa ondata quindi per andare a ripulire diciamo questo parziale di livello. I comandi sono semplici, come potete vedere non occupano gran parte dello schermo abbiamo una buona visuale, alla fine di ogni ondata come potete vedere ci compare il messaggio ondata respinta. Nell'ultima ondata abbiamo un boss finale che come potete vedere eccolo lì, è ovviamente più forte dei nemici normali, avrà molta più vita come potete vedere la sua barra della vita è maggiore quindi dovremo stare più attenti perché ovviamente farà più danni rispetto a un normale nemico e ci vorranno più colpi per essere ucciso. Vi consiglio di andare prima a eliminare tutti i nemici che rimangono nel livello ma comunque se ne andranno a generare di nuovi se non uccidiamo il boss una cosa che mi ero dimenticato di dire è che qui in basso abbiamo un pulsante dove vedete ora l'1 possiamo cambiare mettendo sul 2 per poter cambiare arma quindi abbiamo a disposizione o un'ascia che farà più danni oppure due spade che faranno due spade che faranno meno danni oppure un'ascia che farà più danni ovviamente dipende dall'arma che possediamo vediamo se riusciamo a vincere il livello dato che abbiamo poco tempo a disposizione qui abbiamo l'indicatore delle pozioni che possiamo utilizzare qualora la nostra vita fosse scarsa ci viene consigliato automaticamente dal gioco di andare a utilizzare una che poi sarà possibile ricomprare nel negozio all'interno di questo gioco vediamo abbiamo 4 secondi ecco qui abbiamo concluso anche questa battaglia abbiamo vinto e ora ci verranno dati l'oro che abbiamo guadagnato ovviamente tutto in base alla missione queste sono alcune statistiche sulle uccisioni e eventuali morti che abbiamo fatto poi ci verrà giudicata la battaglia che abbiamo compiuto e infine ci verrà accreditata l'esperienza e l'oro che abbiamo vinto qui abbiamo un forziere possiamo prendere una chiave per aprire questo forziere oppure possiamo abbandonare semplicemente e non andare ad aprire il forziere siamo saliti di livello possiamo condividere sui social network questo nuovo livello e come potete vedere andiamo a sbloccare alcuni oggetti diamo l'ok diamo l'ok anche qui e ora andiamo al menu principale e parliamo in breve anche del negozio finché si carica il menu vado a dirvi che nel negozio è possibile acquistare e soprattutto sbloccare più di mille oggetti quindi sono davvero moltissimi abbiamo delle pozioni che potete vedere qui abbiamo armi, abbiamo dei busti quindi delle armature abbiamo degli elmi, guanti abbiamo degli stivali abbiamo tantissime cose come anche dei ciondoli abbiamo delle fatte abbiamo delle abilità che possiamo andare ad acquistare e infine abbiamo anche tantissime tantissime chiavi per aprire ovviamente i vari forzieri quindi ogni forziere vorrà una chiave diversa ora si dice che non siamo connessi wifi quindi non possiamo acquistare nulla però possiamo andare per esempio a acquistare utilizzando l'oro che abbiamo a disposizione oppure le gemme preziose sempre che abbiamo a disposizione e abbiamo anche la possibilità di potenziare gli oggetti che già possediamo se per esempio vado sull'arma che sto utilizzando in questo momento premendo su potenzia possiamo andare a vedere quale sarà il risultato finale dopo averla potenziata ovviamente in base all'arma che utilizzeremo avrà un costo per il potenziamento usciamo dal negozio andiamo a vedere in breve un'altra cosa che mi ero dimenticato di farvi vedere se ritorniamo per esempio all'interno del negozio qui che vediamo il nostro personaggio un'anteprima del nostro personaggio abbiamo a disposizione qui in basso tutti i vari tab che ci permette di vedere gli oggetti che abbiamo a disposizione all'acquisto oggetti che abbiamo in uso e oggetti che sono bloccati oppure che possediamo torniamo indietro torniamo al menu principale infine abbiamo le impostazioni relative ai vari comandi qui abbiamo la possibilità di regolare il volume della musica e gli effetti sonori abbiamo un reparto relativo alle guide che devo dire sono ottime vi faccio vedere subito per esempio le guide relative ai livelli di difficoltà come potete vedere sono guide che ci andranno a spiegare in italiano ci andranno a spiegare tutto quello che non ci è chiaro possiamo trovarlo all'interno delle guide infine abbiamo i crediti relativi agli sviluppatori che dire infine di questo gioco beh vado ad attribuire un punteggio di 4 stelle e mezzo su 5 è un gioco davvero molto ben realizzato grafica, reparto sonoro, curati devo dire se non a livelli ottimi abbiamo anche una buona longevità di questo gioco tante battaglie, 16 arene, 4 modalità di difficoltà e più di 1000 oggetti da sbloccare, da acquistare e anche da potenziare quindi davvero un bel gioco il prezzo di questo gioco è disponibile gratuitamente in App Store e ovviamente abbiamo la possibilità di acquistare questi oggetti all'interno del negozio tramite l'in-app Purchase questo gioco è anche un gioco universale la video recensione di Dungeon Hunter 3 si conclude qui ciao a tutti